Ciao a tutti e benvenuti in questa seconda puntata della guida che vi insegna a usare il Photoshop CC 2014. Oggi vediamo lo strumento testo. Sembra banale ma non lo è. Come prima cosa creiamo una nuova immagine andando su File, Nuovo, selezioniamo Contenuto sfondo trasparente, mi raccomando è importante, impostiamo una larghezza di 1920 e un'altezza di 1080 in modo tale da avere un'immagine di risoluzione almeno Full HD. Come vedete la nostra immagine trasparente è stata creata. Quando vedete questi quadratini è perché lo sfondo della foto è trasparente. Ora andiamo a prendere il nostro strumento testo. Ora ad esempio andiamo a scrivere una scritta di prova, come ho fatto io adesso. Questa scritta può essere modificata tramite i font, che sono tutti questi vari stili che andranno a modificare appunto la forma del nostro testo. Per cambiare il colore è sufficiente selezionare il testo, dopodiché premere su questa finestrella e cambiare il colore. Non è però tutto qui quello che si può fare con il testo, in quanto si può andare ad aggiungere un effetto particolare alla nostra scritta. Premendo due volte sul livello prova, che è il livello del testo, arriveremo a questa schermata stile livello. Preciso che questa schermata è presente per ogni livello, per cui anche per foto, oppure anche per ad esempio loghi con sfondo trasparente, che diciamo sono più simili al testo. Per i loghi con sfondo trasparente e il testo quello che andremo a fare ha senso, ma per una foto che non ha niente di trasparente e che è rettangolare risulterà leggermente inutile. Dunque possiamo andare a vedere quali sono i vari effetti. Abbiamo l'effetto smusso ed effetto rilievo, che come vedete dà un effetto semi 3D al nostro testo, proprio un rilievo. Mentre senza il testo è proprio piatto. Dopodiché abbiamo texture. Texture in pratica aggiunge una trama al nostro testo. Poi abbiamo traccia, che in poche parole evidenzia il contorno. Dopodiché abbiamo ombra interna, che fa sì che il nostro testo sembri, diciamo, inciso. Dopodiché abbiamo un bagliore interno, che fa la stessa cosa, soltanto con una luce chiara. Dopodiché abbiamo finitura lucida, che dà un effetto particolare al nostro testo. Sinceramente non adoro questo effetto, poi chiaramente è tutto soggettivo. Dopodiché abbiamo sovrapposizione sfumatura, che rende inutile il riempimento del testo che abbiamo dato prima, dove però ci dà la possibilità di scegliere una sfumatura da dare al nostro testo, come ad esempio questa. Dopodiché abbiamo sovrapposizione pattern, che è la stessa cosa della texture, soltanto che il pattern non va a sovrapporsi al colore che abbiamo messo, ma va totalmente a sostituirlo. Anche qua, nella schermata delle opzioni del pattern, abbiamo la possibilità di selezionare l'opacità, che abbiamo visto nella puntata scorsa, se non l'avete vista andate in descrizione e veramente sul link, che ci permette di visualizzare o meno il pattern selezionato. Infine abbiamo i due effetti che utilizzo più spesso, che sono bagliore esterno, solitamente lo utilizzo di colore bianco e non di colore giallo, che ci permette appunto di dare questo effetto alla retro del nostro testo, oppure ombra esterna, che ci permette di dare un effetto di rilievo al nostro testo, senza però andare a creare quell'effetto, diciamo, di testo 3D che non mi piace tanto. Questo effetto diciamo che lo preferisco. Per poter però trattare il testo come un livello vero e proprio, cioè come se fosse un'immagine o un logo con sfondo trasparente, c'è un'operazione che dobbiamo fare. Qua nella sezione livelli, come vedete abbiamo una T sul nostro livello di testo, mentre se noi andiamo a trattarlo come un livello normale, dovremo rasterizzarlo. Cosa vuol dire? Vuol dire che lo trasformiamo in una vera e propria immagine. Facendo il tasto destro sul livello, premendo su rasterizza testo, come vedete non abbiamo più la T, ma abbiamo la nostra scritta come se fosse un'immagine e ora possiamo andare a ridimensionarla a nostro piacimento, ingrandendola o rimpicciolendola. L'unico svantaggio della rasterizzazione è che una volta rasterizzata la nostra immagine non potremo più andare a modificare il nostro testo, in quanto se non andiamo a premerci sopra automaticamente ci verrà creato un nuovo livello di testo. Non potremo più modificare il nostro livello prova. Ora andiamo a vedere un'ultima cosa con il nostro livello di testo. Come sostituire questo colore e dare un riempimento che prendiamo da un'altra immagine, un po' come il pattern e la sfumatura di prima, solo con un'immagine esterna. Andiamo ora ad aprire un'immagine qualunque che può essere ad esempio una sfumatura scaricata dal web, come per me questa immagine. La seleziono tutta, faccio copia, vado sul nostro progetto e faccio incolla. Automaticamente il nostro testo verrà coperto perché il nostro livello 1 sta sopra il nostro livello prova e semplicemente spostandolo posso fare comparire la nostra scritta. Quello che vogliamo fare noi però è cancellare il colore di prova e metterci questo colore. Per cui dobbiamo fare sul nostro nuovo livello aggiunto, sul nostro immagine, tasto destro e fare crea maschera di ritaglio. Essenzialmente quest'immagine selezionerà il livello precedente, cioè sottostante, e andrà a sovrapporsi al riempimento in modo tale da avere questo effetto. Chiaramente la nostra foto è però ancora presente, soltanto che si vede in quella determinata sezione. Per cui se io vado a spostarla o a ridimensionarla, ugualmente rimarrà presente sul nostro testo. Se io poi voglio unirli in un unico file rasterizzato, basta selezionare i due livelli e premere Command E. E automaticamente i due livelli verranno uniti. Se andrò a spostare il nostro prova, automaticamente ci verrà spostato tutto senza stare a spostare il riempimento in base all'immagine che prima era sotto. La nostra puntata finisce qui, spero di esservi stato utile. Continuate a seguire la serie, mettete mi piace al video. Se non avete visto quello precedente trovate il link in descrizione. Ciao a tutti!